Musica E' un vero e proprio centro di eccellenza internazionale dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni diagnostiche innovative contro le malattie infettive e l'antimicrobico resistenza, quello che la Biomerie ha realizzato sulla variante Chiantigiana a Bagno a Ripoli, una nuova ala della sede toscana. Il nuovo hub realizzato con occhio attento a sostenibilità e biodiversità è stato battezzato con Innovation Powerhouse e si dedica alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni contro i supermicrobi, un ampliamento che ha visto un investimento di oltre 9 milioni di euro. Biomerie ha deciso di investire un po' più di 9 milioni per la creazione di questo nuovo centro di ricerca e sviluppo per aumentare la nostra capacità a innovare e velocizzare i tempi per sviluppare nuovi strumenti, ma anche per aumentare la capacità di produzione del sito. Oggi la sola prevenzione non basta più e per questo si punta strategie diagnostiche innovative all'avanguardia perché grazie a testi innovativi è possibile individuare nel giro di poche ore non solo gli agenti patogeni responsabili di un'infezione ma anche a quali farmaci sono sensibili insomma a una vera rivoluzione in campo diagnostico. L'obiettivo principale è quello di riuscire a sviluppare sistemi di diagnostica in vitro che siano rapidi, efficaci e accurati. Questo è l'obiettivo principale, questo per i nostri pazienti e i nostri clienti. Diagnosticare i batteri resistenti, perché ci serve? Ci serve perché diagnosticandoli sappiamo quali antibiotici utilizzare e quindi come usare gli antibiotici in maniera appropriata. Perché diagnosticandoli sappiamo quali sono i pazienti colonizzati o infetti da batteri resistenti e quindi sappiamo che con quelli dobbiamo prendere le precauzioni per evitare la diffusione. La diagnostica è importante per questo, è importante che sia rapida, prima facciamo e prima possiamo intervenire, è importante che sia precisa perché l'informazione che ci dà deve essere un'informazione accurata. Quello dei dispositivi medici è un mondo altamente tecnologico e il nuovo centro di Biomerie, presente in ben 45 paesi, apre uno spazio nuovo nella ricerca in Italia in questo ambito. Stiamo trasferendo la produzione di un nuovo strumento, il BiTech Masspec Prime, dagli Stati Uniti in Italia per servire i mercati asiatici e europei. Questo strumento permette di fare analisi del sangue e di identificare patogeni di malattie infettive in poco tempo per poter consigliare i medici prescrivere la cura giusta per il paziente. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo vanta collaborazioni di eccellenza come quella decennale con l'Università di Siena. Sono stati dieci anni molto interessanti anche per noi dell'Università, un rapporto molto intenso con la società Biomerie, con il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo in particolare, dove noi abbiamo apportato degli expertise, degli skill, che derivano soprattutto dall'elaborazione delle immagini, dal machine learning, dal deep learning e dell'intelligenza artificiale applicata. Sono tutte tematiche molto importanti, soprattutto in un'epoca come la nostra, ma in generale per il tipo di segnali, questi biologici, per la parte di diagnostica, perché queste tecnologie hanno la capacità di analizzare moltissimi dati molto velocemente, facendo correlazioni e accorgendosi di pattern che possono sfuggire a quelle che sono le tecnologie tradizionali e quindi aumentando moltissimo sia la sensibilità che l'accuratezza e la precisione dei risultati. L'investimento avrà importanti ricadute sul territorio, previste già molte assunzioni. Non solo abbiamo offerto con questo nuovo edificio, che quindi per le persone, per farle sentire proprio a casa, ma permette anche un'evoluzione, una crescita in termini di personale, proprio perché aumenteremo la forza lavoro di circa 10% solo quest'anno e quindi questa è una repercussione molto positiva sul territorio. Figure professionali richieste? Sì, allora cerchiamo degli operatori di produzione, quindi persone che lavorano proprio sui macchinari in fabbrica e anche nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo cerchiamo degli ingegneri software o meccanici. Insomma, Biomerie si consolida azienda pronta a nuove sfide in campo diagnostico.